Il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Teramo è Alessandro Primavera, 57 anni, abruzzese di Chieti, proveniente da Roma, dove ha diretto l'ufficio di rappresentanza militare del sesto reparto del Comando Generale. Il colonnello Primavera prende il posto lasciato dopo tre anni dal parigrado Pietro Pelagatti, destinato a un prestigioso e delicato incarico al Comando Regionale di L'Aquila. Primavera si è detto conscio delle grandi sfide che la provincia e la città di Teramo gli impongono e queste le sue prime dichiarazioni al microfono di Alfredo Giovannozzi. Contraffazione, lotta alla prostituzione, evasione fiscale, qual è il problema più grande della provincia di Teramo? I problemi li dobbiamo ancora valutare non appena avremo avuto piena conoscenza del territorio e della realtà socio-economica degli ambiti di competenza. La lotta che ci apprestiamo a fare, l'azione di servizio, sarà naturalmente un'azione di servizio a tutto campo, senza trascurare quelli che sono i profili di maggior interesse, come ad esempio la lotta all'evasione fiscale, sommerso, l'abusivismo finanziario, ma senza trascurare i settori che lei ha appena citato, come quello della contraffazione, che oltre a creare e alimentare un circuito di illegalità, è anche un momento di crea difficoltà economica anche per chi invece intende operare nelle regole, nel rispetto della legalità. Soprattutto c'è da verificare anche se la zona costiera è una zona, come si dice, di confine, quindi anche una zona dove si delinque più facilmente, nella zona nord e zona sud. Siamo una forza di polizia a presidio della legalità e anche delle libertà economiche. Non trascuriamo le zone interne come saranno presidiate in modo particolare anche il litorale, che spesso diventano particolarmente affollate, soprattutto l'estate, con tutto l'indotto anche di legalità che talvolta si registra proprio in quelle zone.